Michelle Unziker decide di rispondere alla bravissima giornalista del TG3, la brava Giovanna Botteri, avrebbe detto non doveva essere difesa da me la donna in questione, insieme infatti combattiamo l'odio nei social network. E' una Michelle Unziker comunque tutto sommato tranquilla, una Michelle Unziker serena, quella che va a rispondere direttamente a Giovanna Botteri, vi ricordo che di recente c'è stato questo, chiamiamolo, non attacco, ma questo scambio di battute, questo confronto tra la Unziker e tra la bella Giovanna Botteri. Rea a dire della Unziker che probabilmente appare in tv, forse un pochino, spettinata. Vi ringrazio tuttavia per l'ascolto, vi ringrazio tuttavia per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi al mio canale, il canale di narratore italiano, iscrivetevi al prossimo video.